Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla pagina della cronaca nera. Vi riferiamo di tre arresti eseguiti nelle ultime ore a Gela dai carabinieri. In manetta i due giovani che dopo aver forzato un posto di blocco in sella ad una moto hanno investito due militari dell'arma. Ammanettato anche un pregiudicato per droga. Rinvenuti 9.000 euro in contanti sotto il materasso di un familiare. Vediamo. Devono rispondere di resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali i due giovani gelesi arrestati dai carabinieri del reparto territoriale. Si tratta di Alessandro Italiano, 20 anni, e di Giuseppe Perrotta, di 19. Ieri sera i due ragazzi in sella ad una moto di tipo enduro fuoristrada, sprovvista di targa e di copertura assicurativa, si sono resi protagonisti di un vero e proprio rodeo per le vie del quartiere Fondo Iorza. Dopo avere l'uso, un posto di blocco istituito dalla polizia si sono andati alla fuga. Immediatamente il dispositivo di sicurezza ha allertato e predisposto la cinturazione del territorio. I due centauri sono incappati nei militari dell'arma che a loro volta avevano approntato un posto di controllo per interrompere la folla e pericolosa corsa del motociclo. Italiano e Perrotta però non si sono fermati neanche di fronte ai militari che, in vano, gli avevano intimato l'alta, travolgendoli. Entrambi i carabinieri, seppur caduti a terra e nonostante fossero rimasti feriti, hanno continuato la loro azione con coraggio e tenacia, riuscendo a bloccare i fuggitivi. Trasportati in ospedale, i medici hanno scongiurato conseguenze più gravi per i militari. Se la caveranno con alcuni giorni di riposo. E sempre i carabinieri, in collaborazione con la Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione Sicilia, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, denominati Modello Trinacria, hanno arrestato per violazione degli obblighi inerenti alla soviglianza speciale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza superfacente, Calogero Orazio Peritore, pregiudicato di 32 anni. A seguito di una perquisizione domiciliare sono state trovate sei dosi di marijuana già divise, 100 euro in contanti e un grinder tagliaerba. La perquisizione, estesa sotto un madrasso, ha permesso di rinvenire a carico di una familiare di peritore una somma di circa 9.000 euro in contanti, della quale lo stesso non è stato in grado di giustificarne la provenienza. Il congiunto dell'uomo è stato denunciato per ricettazione. Cambiamo argomento, una miseria per le strade rurali, un danno grandissimo per l'agricoltura. Questo è il segno tangibile di un bilancio senza programmazione, privo di una visione di insieme che destina soldi in maniera frammentata senza determinare benefici diretti per la città. Servivano scelte decise nel bilancio di previsione 2016, ma l'amministrazione messinese non le ha fatte e quanto afferma il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle formato dai consiglieri Enzo Giudice, Virginia Farruggia, Angelo Amato e Simone Morgana. I fondi per lo stadio distribuite in rivoli per non realizzare nulla di buono. Nessuna chiarezza sul tema rifiuti con scelte a dir poco opinabili. Un vuoto totale sui debiti delle partecipate ancora sconosciuti, un lavoro non produttivo sui temi della mobilità urbana e dello sviluppo logistico. Il documento che doveva costruire il futuro della città non costruisce nulla e dimostra l'assenza di un programma. Siamo di fronte alla sconfitta di una giunta solitaria, si legge nella nota, che non può costruire perché non ha nessuna idea per farlo. messinese non rompe con il passato ma dimostra una inquietante continuità con gli usi e costumi di chi per anni ha devastato la città. Questa sera, così come concordato ieri, il Consiglio Comunale dirà la sua sul bilancio 2016. All'orizzonte si profila l'ennesimo rinvio delle elezioni dei libri consorsi. Ad esprimersi sull'opportunità di un rinvio è stato ieri il presidente della prima commissione affari istituzionali Salvatore Cascio. Durante la seduta dell'Assemblea regionale siciliana Cascio ha dichiarato apertamente che se si andasse al voto con le regole attualmente varate ci sarebbe un enorme rischio di discresia nella rappresentanza dei comuni. E adesso cosa accadrà? Lo abbiamo chiesto al portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area giolese, Filippo Franzone. La Regione, dopo l'ennesimo pasticcio, dovrà tornare a legiferare nuovamente sull'argomento dei liberi consorsi di città metropolitane. Per l'ottava volta dovrà modificare nuovamente la legge. Per quello che noi abbiamo appunto segnalato per la carenza del voto ponderato ma non solo. Il presidente Cascio durante la sua esposizione dei fatti in Assemblea regionale dice che ci sono diversi problemi. Ovviamente non citano il problema vero e più grave, quello delle variazioni territoriali e che causa il maggior mal di pancia a tutti i 90 parlamentari regionali. Ma abbiamo detto da tempo che le elezioni non si svolgeranno e non si potranno svolgere per gli enti intermedi siciliani se prima Gela, Piazza Emmerina e Niscemi non vengono ricollocate all'interno della città metropolitana di Catania. Anche questa volta lo avevamo previsto, dice Franzone, non ci hanno ascoltato e adesso i fatti ci danno ragione. L'abbiamo sottolineato il 28 luglio. Siamo stati gli unici ad accoggerci che c'era un problema con il voto ponderato appunto di differenza tra peso dei vari comuni, tra quelli andati al voto a giugno e quelli che invece non avevano votato nelle ultime elezioni. Lo abbiamo segnalato a giugno, c'è stata la pausa estiva, la regione ha voluto perdere tutto questo tempo fino ad oggi. Oggi si sono accorti che il problema non è segnalato a luglio, è un problema reale e non si può andare avanti. Ma oltre ad aver segnalato questo problema abbiamo segnalato anche l'altro problema. Va completato tutto l'iter della legge 15 del 2015, ovvero va completato anche l'articolo 44 che è l'articolo che permette le variazioni di Gela, Piazza Elmeria e Niscemi all'interno della città metropolitana di Catania. Senza questo completamento non si potrà andare neanche in futuro alle elezioni degli enti intermedie. Franzone interviene anche sulla nomina di Gaetano Armao che fa parte del pool di avvocati che seguirà i comuni coinvolti nelle variazioni territoriali. Quello che si impugna è un atto amministrativo che ne consegue appunto dalla legge 15, quindi quello che si tentava di impugnare erano appunto le elezioni dell'ente intermedio. Dovremmo attendere ovviamente nuovamente. Giovedì hanno detto che probabilmente voteranno questa legge all'Assemblea regionale e quindi sposteranno le elezioni degli enti intermedie entro gennaio del 2017. E il comitato Gelensis Populus chiede chiarezza in merito alla candidatura alla presidenza del Libero Consorzio di Caltanissetta da parte del sindaco di Gela. Il sindaco di Gela Domenico Messinese è candidato alla presidenza del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta a capo di una lista che vedrebbe fare prove tecniche di più ampia intesa tra il movimento di Cardinale, l'area renziana del Partito Democratico e il movimento di Crocetta e il sospetto del comitato Gelensis Populus che già il 16 luglio scorso aveva invitato e oggi continua ad invitare il sindaco ad astenersi da partecipare alle elezioni di secondo livello per coerenza. Chi sostiene Messinese nella scelta di accettare la candidatura si giustifica dicendo che sarebbe in vero l'unico e giusto contrappeso allo strapotere di Caltanissetta che in assenza di alternativa prenderebbe tutto ad armi basse. Ma siamo sicuri che sia questa la vera ragione? Gelensis Populus non ci sta. A noi di Gelensis Populus, dice il portavoce Liliana Bellardita, quello che il sindaco nelle prossime ore deciderà interessa e interessa non poco, ma interessa anche alla città di Gela e ai cittadini gelesi sempre che le elezioni di secondo livello negli enti intermedi si terranno, viste le sempre più insistenti voci per limitare, di rinvio tecnico vista la mancanza di intesa politica tra le varie forze nella composizione delle liste. Tutti i passaggi di interlocuzione devono doverosamente essere resi noti e chiari, così come devono doverosamente essere resi note e chiare, le ragioni del sindaco e questo perché temiamo che questo passaggio sia un ennesimo tentativo di trovare a casamenti o posti in prima fila alle prossime regionali o di giustificare eventuali comitati di affari che guardano con attenzione alle novità politiche e ai finanziamenti in arrivo. Gelensis Populus, che ha ideato anche una vignetta metaforica, non può accettare che Gela venga svenduta o barattata anche questa volta. Si faccia dunque subito chiarezza. Partirà domani, giovedì 27 ottobre, il servizio di riflessione scolastica nelle classi delle scuole primarie a tempo ordinario di Gela. Il servizio riguarderà 1.400 alunni e 70 lavoratrici. Nonostante non sia classificato come un servizio obbligatorio, ha detto l'assessore ai servizi sociali l'Iciabela, non solo abbiamo voluto garantire sin da subito le prestazioni, ma contiamo di potenziarle non appena sarà approvato il bilancio di previsione. Il servizio parte dopo giorni di mobilitazione degli uffici e di confronto interlocutorio con i sindacati. Interventi sono stati realizzati ai centri di cottura in materia infrastrutturale, sanitaria e tecnica. L'assessore Abela confida nell'efficienza del servizio per questo nuovo anno scolastico e in questo senso ha coinvolto tra l'altro la commissione consigliare alla cultura per monitorare la qualità dei pasti. Il centro di urno Alzheimer dell'ASP di Caltanissetta, così come quello di Gela, punto di riferimento per tanti pazienti e le loro famiglie, rischia di chiudere battenti. Il prossimo 31 dicembre scaderanno infatti i contratti dei 30 operatori tra il capoluogo e la città del Golfo, un'equipe multidisciplinare che in questi due anni ha assistito oltre 200 pazienti offrendo loro servizi qualificati, oltre che un valido supporto psicologico alle famiglie, oggi preoccupate per il futuro del centro e i disagi che deriverebbero dall'interruzione del servizio. Ho visto che il comune di Caltanissetta si è attivato con i famosi progetti della 328. Naturalmente io ho dato un'occhiata a questi progetti, ho visto, e ne prevedono 50, l'ingresso di 50 pazienti, per tre ore al giorno, per tre volte alla settimana. Con figure professionali, devo dire, in numero notevolmente ridotto a quello che potrebbe essere definito un centro di urno vero e proprio. Mi sembra più un Alzheimer café, ma comunque che ben venga per carità, perché è a integrazione del centro di urno Alzheimer e non in sostituzione, sia chiaro, però non si può chiamare centro di urno. Il centro di urno vero e proprio è quello che ha fatto l'Asp, con tanti sacrifici, è quello che deve andare assolutamente avanti. Noi come familiari faremo pressioni alla Regione, già abbiamo scritto a tutti gli enti preposti della sanità della Regione e speriamo di avere a più presto risposta, perché altrimenti il 31 dicembre, il 1 gennaio forse ci troveranno, anzi no, forse il primo no, ma il 2 sì, ci troveranno a fare manifestazione affinché ci sia appunto questa continuazione di questo progetto veramente eccellente. Contratti Coco Pro, quelli stipulati con gli operatori, che sinora si sono occupati del centro, che secondo quanto previsto dalla legge non possono essere più rinnovati, così come ci ha spiegato ai nostri microfoni il direttore sanitario Marcella Santino. La situazione è che il 31 dicembre 2016 scadono i contratti degli operatori, ma questo perché il Jobs Act prevede che non è più possibile fare contratti Coco Pro a quella data. Quest'azienda si è già premonita di comunicare la situazione in Regione ed è in attesa di risposte. Devo dire che il quadro in questo momento appare confortante, perché l'assessore, giusto Sabat, ha detto che la Regione si sta muovendo per trovare soluzioni, per trovare risposte adeguate, perché centri così importanti non debbano chiudere o non debbano finire la propria attività. Quindi l'azienda dà la massima disponibilità, si attiene a quanto ha detto l'assessore ed è in attesa di queste nuove direttive. Collocare le strisce pedonali in via Recanati a Gela, nei pressi della scuola di Quinto Circolo, del campo di calcio Real Gela e di una scuola di danza, la cui zona giornalmente è frequentata da numerosi studenti e la richiesta avanzata dal comitato di quartiere Sant'Ippolito all'amministrazione comunale. Il presidente del comitato, Gianfranco Rigoni, ed il suo vice, Franco Tinnerello, chiedono all'aggiunta inoltre di adoperarsi in via Francesco Crispi, dove le strisce pedonali sono presenti, ma quasi totalmente cancellate. La strada è molto frequentata e dunque si chiede un intervento immediato al fine di scongiurare qualsiasi incidente. Sempre all'amministrazione comunale si chiede di far rimuovere i detriti che insistono sulla strada a seguito dell'acquazzone dei giorni scorsi. Ed il presidente del comitato di quartiere di Settefarine, Salvatore Terlati, sottolinea che nonostante le numerose richieste fin qui avanzate al comune, non si è intervenuti per eliminare le palme morte a causa del punteruolo rosso. Giorni addietro, nei pressi della cavalcavia, lo vediamo dalla foto, una palma si è letteralmente spezzata causando apprezzione tra chi in quel momento circolava da quella zona. Una nota è stata indirizzata anche alla Procura della Repubblica. E adesso parliamo della giornata europea della giustizia civile che si svolta anche a Gela. In contemporanea con 92 città italiane e in 16 paesi europei si è svolta anche a Gela la giornata europea della giustizia civile. L'obiettivo è stato quello di creare un momento di informazione e confronto tra operatori della giustizia e cittadini. Il notariato italiano ha deciso di aderire al progetto denominato Scuola Legalità con iniziative specifiche rivolte ai cittadini per far conoscere i principi del diritto italiano e europeo e spiegare il ruolo che il notaio pubblico ufficiale delegato dallo Stato svolge in Italia e in Europa. Appuntamento alla Liceo Classico Eschilo e alla Liceo Scientifico Elio Vittorini. Sicuramente la scuola a partire da oggi ha instaurato un rapporto di collaborazione con i notaio di Gela per cui avremo senz'altro degli incontri sulla tematica dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità perché comunque l'incontro di oggi si inserisce in questo contesto. Ma con l'associazione dei notai di Gela, con il notariato di Gela abbiamo, ci siamo accordati che potremmo organizzare un percorso di alternanza scuola-lavoro. Quindi diciamo che questo è l'inizio di una, speriamo, proficua collaborazione anche perché la scuola non può essere sola un'isola. La scuola deve per forza relazionarsi perché è giusto che i nostri studenti abbiano una visione completa del territorio che li circonda, delle attività e delle aziende che operano nel nostro territorio. È una giornata che serve a rappresentare ai cittadini la possibilità e i metodi che hanno per tutelare i propri diritti tramite le figure che sono tipiche per la tutela dei diritti medesimi, quindi la figura del magistrato, dell'avvocato. Noi ci siamo soffermati particolarmente su quella del notaio perché in primis è una delle professioni meno conosciute all'esterno e poi per rendere i dotti ragazzi anche sotto un profilo preparatorio di quella che potrebbe essere la loro futura professione di quello che è il notariato e in che cosa consiste la nostra professione. Devono nascere con quest'idea della legalità dall'inizio perché la legalità serve in tutti i momenti della vita, in tutti i momenti della vita. Serve per seguire tutto un percorso, iniziano un percorso e lo devono completare fino a livello professionale, attività, lavoro, quello nell'ambito della famiglia, sotto tutti i punti di vista. Capire quali sono le norme che regolano la convivenza tra i soggetti, quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare, sia nei rapporti con gli altri, perché le norme riguardano sia i rapporti anche familiari, ma i rapporti anche all'interno della scuola, i rapporti all'interno della società, quindi questo è importante sia a livello dell'ordinamento italiano ma anche importante anche l'ordinamento europeo perché permette anche di, ormai siamo parte dell'Europa e quindi anche gli scambi commerciali avvengono anche tra i paesi europei, quindi è importante anche conoscere le norme di diritto. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Statale Mattei di Gela ha aderito con entusiasmo alla manifestazione proposta dal MIUR Libriamoci giornate di lettura nelle scuole, una bella ed importante iniziativa che coinvolge gli istituti scolastici cittadini e vanta una proficua collaborazione con l'amministrazione comunale. Fino a venerdì 29 ottobre tutte le classi della scuola saranno coinvolte nella visita alla biblioteca comunale di Gela che contiene un rilevante e prezioso patrimonio librario e nella visita ad una nota libreria dal centro città Randazzo dove gli alunni potranno visionare ed acquistare dei libri. Il dirigente scolastico Agata Gueri ritiene di estrema importanza queste giornate dedicate ai libri e alla lettura benché nell'Istituto Comprensivo Mattei la pratica della lettura si applichi quotidianamente attraverso le diverse discipline e da più di due anni è attivo un laboratorio di lettura e scrittura creativa in modo che gli alunni possano gustare pienamente il piacere speciale dei libri. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa, baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti, imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli vanno conferiti e puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati in seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a 20 extracomunitari che a Gela hanno partecipato al corso di educazione civico-stradale. Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a 20 extracomunitari che a Gela hanno preso parte al corso di educazione civico-stradale relativa alla conoscenza e al comportamento. Si è svolta ieri pomeriggio alla presenza dell'assessore comunale ai servizi sociali di Gia Bela e del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana. L'iniziativa promossa dall'ex assessore al controllo del territorio Eugenio Catania è stata curata dall'ispettore Slavatore Sauna con la collaborazione di alcuni mediatori culturali. Convolgimento ai fini dell'integrazione, questo è l'obiettivo chiave, è chiaro. Non si può pensare che questi ragazzi possano essere esclusi dalle dinamiche civili che si svolgono all'interno della città, quindi un corso sull'educazione di civiltà e questo è stato il messaggio che è passato in questo riformazione. Ci auguriamo di replicarlo e di potenziare lì dove ci siano le condizioni questo momento di integrazione nel vero senso della parola. La prima cosa che noi vorremmo sottolineare è la necessità che siamo in presenza di due culture diverse, entrambi paritarie, è la cosa fondamentale che vogliamo sottolineare ed entrambe che meritano di essere poste sullo stesso piano e rispettate allo stesso modo. Ma evidentemente si tratta di persone che si trovano sul nostro territorio e che quindi devono individuare, verificare ed adeguarsi a quelle che sono le nostre regole di vita. Non che siano migliori rispetto alle loro, ma sono quelle che attuiamo nel territorio dello Stato italiano e come totale devono essere rispettate. Oggi più che mai questo tema è di grande rilevanza perché è chiaro che in una situazione a livello nazionale in cui ci sono molte discussioni sull'accoglienza o meno, noi abbiamo ritenuto di rendere questo servizio non solo a queste persone, ma in primo luogo alla città e a noi stessi. Penso che d'accordo con il comandante, con l'ex assessoreo in Catania abbiamo pensato di dare una mano a questi ragazzi che vivono nella nostra città per cercare di aiutarli nel loro inserimento nella nostra società. Poi essere d'accordo, poi non essere d'accordo sulla varie politiche dei migranti, però è una realtà che c'è, che esiste e noi come istituzioni, quindi come Polizia Municipale abbiamo pensato di dare dei servizi perché il nostro combito è quello di dare servizi alla città e attraverso questo corso abbiamo dato questo servizio. Donne lavoro quando la leadership crea innovazione e cambiamento è il tema del convegno organizzato dal Comitato di Presidenza Distrittuale Fidapa che esiterà sabato 29 ottobre alle 10 nell'aula magna del religio scientifico Leonardo da Vinci di Niscemi in via Carlo Alberto dalla Chiesa. Saranno presenti tra gli altri il Presidente Rosa Maria Lascola e le rappresentazioni di Gela Angela Incardona, Pass Presidente, ed il Presidente Rita Salvo. Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Unitredi Gela presieduta da Angela Scaglione Altamore. Si terrà sabato 5 novembre alle 17.30 presso l'auditorium dell'eliceo classico Eschilo di Gela. Saranno presenti Aldo Cibona, il dirigente scolastico Giochino Pelittedi e l'assessore comunale Francesco Salimitro. Preoccupati i sindacati per i possibili rischi di un'ulteriore privatizzazione di poste italiane, è stato indetto infatti già a partire da questo lunedì 24 ottobre lo sciopero delle prestazioni straordinarie che terminerà il prossimo 25 di novembre. Le segreterie nazionali SLPCISL, SLCCGL, FILPCISL, COMSALCOM e UGLCOM hanno proclamato inoltre uno sciopero generale che prevede delle manifestazioni in ogni regione d'Italia e quindi anche in Sicilia e per l'esattezza a Palermo. Sciopero programmato per la giornata del 4 novembre 2016. Serve a far comprendere al governo che noi non siamo disponibili a mettere sul mercato la totalità dell'azienda perché a nostro avviso questo metterà in discussione la funzione sociale che da 154 anni assicura la nostra azienda e soprattutto metterà in discussione decine di migliaia di posti di lavoro e con la conseguenza assolutamente netta che sarà quella di non offrire più un servizio efficace ed efficiente provando a buttare a mare i sacrifici di 140 mila dipendenti i quali con il loro sacrificio hanno fatto sì che il vecchio carrozzone pubblico che produceva 4 mila miliardi di deficit all'anno oggi chiude i bilanci e quest'anno chiuderà ancora una volta il bilancio in positivo presumiamo con qualcosa come un miliardo e 200 milioni quindi no a una privatizzazione che dovrebbe vedere introitare da parte dello Stato qualcosa come 3 miliardi a fronte di un debito pubblico che oggi in Italia sfiora i 2.500 miliardi. È una battaglia che noi porteremo avanti fino allo streono sperando che il governo si convinga della bondà della nostra protesta. Caltanissetta farà il suo dovere e Caltanissetta sarà rappresentata a Palermo con circa 250 persone giorno 4 intorno alle 9 4 o 5 pullman e partiremo da Caltanissetta alla volta di Palermo per come dire rappresentare civilmente e democraticamente il nostro disagio sperando ribadisco che il governo possa ascoltare le nostre voci perché credo abbiamo il diritto e anche il dovere di protestare fino alla fine. Una messa in suffraggio in ricordo del 54esimo anniversario della morte di Enrico Mattei si darà domani alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella. Subito dopo verrà deposta una corona di alloro ai piedi del busto di Mattei che si trova in Viale Corte Maggiore. L'iniziativa è della sua azione Pionieri e Vedrani Eni di Gela preseduta da Giuseppe Lisciandra. Dal 28 al 30 ottobre prossimi Gela accoglierà gli atleti della nazionale italiana Special Olympics che nel marzo del 2017 in Austria parteciperà ai mondiali invernali nella disciplina della corsa con le racchette da neve. L'iniziativa giolese è promossa dalla associazione Orizzonte di Natale Salucci. Gli allenamenti si svolgeranno sulla spiaggia di Gela e i ragazzi della nazionale avranno a disposizione le strutture del club Vela per momenti di relax, gioco, incontri tecnici e momenti di socializzazione grazie alla disponibilità del presidente Luigi Nastasi. Appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in proiezione il film Go With Me. Sono due gli orari della programmazione 19.30 e 21.30 ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Gela. Il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre. Ricordiamo che l'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. E' nuova stagione teatrale anche all'eschilo, dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione. Il prezzo dell'abbonamento in questo caso è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.